Il 2020 del girone H di Serie D riparte nello stesso modo in cui si era concluso l'anno precedente, nel segno del Bitonto. Chiuso il 2019 col titolo platonico di campione d'inverno, seppur a pari punti col foggia, il nuovo anno dei neroverdi e del girone di ritorno partono con una vittoria per 2-0 contro il Francavilla nella vigilia dell'Epifania. I ragazzi di Taurino non sembrano aver accusato il colpo della sosta natalizia e riprendono il filo del discorso lì da dove l'avevano lasciato. Protagonista assoluto è Onni Turitto, autore da prima dell'assist per la seconda rete stagionale di Terrevoli, la prima esattamente un girone prima a campi inversi, e poi dell'inzuccata vincente nella ripresa sulla pennellata da piazzato di Bolognese. Il Bitonto vince e scappa da solo in vetta, il foggia scivola a meno due bloccato in casa dal fasano. Distacco che resta inalterato sette giorni dopo nonostante il rammarico in casa Bitonto sia davvero tanto. Continua il mal di campania per i neroverdi che nella trasferta casertana di Santa Maria Capoavetere sciupano un doppio vantaggio e si fanno bloccare sul 2-2 dal Gladiator. Non vince il Bitonto, non vince neanche il foggia, bloccato sul pareggio a reti bianche dal fanalino di Codagropoli. I neroverdi passano in vantaggio a fine primo tempo con il gol di Rappina di Turitto, nato dalla violenta punizione dalla distanza di Marsili. Ad inizio ripresa ancora Marsili ha di ispirare da piazzato, sul primo palo Colella il più lesto di tutti a fare 2-0. Sembra fatta, ma due omnisie difensive costringono i neroverdi a subire per la prima volta in campionato la rimonta da un doppio vantaggio. Il Gladiator ringrazia e blocca i leoncelli sul 2-2. Inevitabile la mano in bocca a Bitontino, fallita, una grande occasione per allungare in vetta. Due lunghezze di distacco dunque tra Bitonto e Foggia che restano tali anche dopo la ventesima giornata. Il 19 gennaio al Città degli Olivi va di scena un derby sentitissimo, Bitonto-Fasano, match che richiama anche la luce dei riflettori di Sport Italia. La TV nazionale arriva nella Città dell'Olio per raccontare una sfida mai banale e il Bitonto, in diretta in tutta Italia, fa un figurone. Primo tempo d'attacco chiuso però senza reti, ripresa a tutto gas con una partenza devastante. Patiano va vicino al gol per due volte, poi sale definitivamente in cantedra e si prende tutta la scena. Dapprima sfrutta un'indecisione di pane bianco su perfetto lancio di Lomasto, salta il portiere avversario e deposita nella porta sguarnita l'1-0, poi guadagna e trasforma un calcio di rigore. Doppietta per The King, Neroverdi da sballo. Il Bitonto capisce che è arrivato il momento di accelerare e lo fa, sfatando il tabù campano. Ad Agropoli insidioso testa a coda, ma i Neroverdi hanno maturità e consapevolezze ben diverse da quel clamoroso capitombolo casalingo di un girone prima. La sblocca subito in ovvio Lattanzio, di testa, poi raddoppia sempre di testa Gianfreda, sempre su azione da piazzato. A penelare con maestria il piede preciso di Marsili. La pioggia e il terreno di gioco non facilitano le trame, ma il Bitonto è padrone e nella ripresa rotonda col tris di Patierno. 3-0 finale e da lungo in classifica. Il Sorrento sale al secondo posto a meno 4, il Foggia cade a gravina e scivola a meno 5. Primo acceno di fuga Neroverde. E con la nocerina, il Bitonto capisce che non può fermarsi per nessuna ragione al mondo. I molossi rossoneri soffrono tremendamente il ciclone Neroverde che si abbatte sul Città degli Olivi con impetuoso tumulto. Patierno è scatenato, due assist e due gol nel 4-0 finale. Apre le danze Lattanzio con una rete di rapina. Raddoppia Patierno in acrobazia, poi lo stesso Bomberchicco nella ripresa delizia i palati con uno splendido palonetto. Prima di servire a vacca la sfera per la rasoiata del poker. 13 punti su 15 disponibili. Insomma, l'avvio del 2020 è nel segno, come sempre, del Bitonto.